In ritorni alle corse, dopo parecchio tempo, ti sei ripreso? Come stai? Sì, mi sono ripreso bene, direi, dopo questo infortunio. Adesso c'è la voglia di correre, di fare qualche gara, divertirmi ancora e seguire ancora la mia passione. Inizia oggi una gara molto bella, importante, anche selettiva, quindi vedrò cosa potrò fare. Vedremo poi le sensazioni in gara e metterremo poi le conclusioni dopo. Una gara che hai fatto molte volte, davvero selettiva, forse non è il miglior modo per rientrare alle corse, però sappiamo che ci sai sorprendere ogni volta. Sì, in effetti è una gara impegnativa, però vabbè, mi sono allenato bene, poi sono percorsi che mi piacciono, quindi cercherò di difendermi e fare il meglio.